SONAMANI! Salta, 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 salta! Allora, attenzione, perché chi salta si sposerà entro 2015. Ormai non saltate più. Allora, attenzione, perché chi si tratta? Allora, attenzione, perché chi si tratta? Sulla testa di quello davanti, eh? Bravi, bravi! Mani sulle spalle! Mani sulle chiappe! Mani sulle spalle! Voglio vedere la sposa che fa il limbo! Andiamo noi! Ehi, la sposa! Vai, sposa! Vai, sposa! Vai, sposa! Vai, sposa! Vai, sposa! Allora, attenzione! Allora, attenzione! Allora, attenzione! Posa!